E' stata disposta l'autopsia per Nello Tonelli, 77enne, deceduto nella notte tra sabato e domenica, per le ferite riportate nell'incidente frontale tra l'ambulanza della Croce Rossa che lo riportava a Pergola ed un tir nel pomeriggio di giovedì scorso sulla Pergolese. L'uomo, molto conosciuto in paese, idraulico in pensione, era ricoverato all'ospedale di Pesero ed i sanitari non lo ritenevano in pericolo di vita, nonostante la brutta frattura al femore sinistro riportata per il ribaltamento del mezzo. La moglie, Primo Latonelli, anch'essa all'interno dell'ambulanza al momento dell'incidente per il quale ha avuto 60 giorni di prognosi, non capacitandosi della morte del marito, ha dato mandato ai giorni scorsi agli avvocati di procedere per accertare la causa del decesso del marito. Il PM Nardone ha così disposto l'autopsia che dovrà chiarire che cosa è accaduto e cosa ha causato la morte del 77enne. Al momento risultano ancora stazionarie le condizioni dell'autista dell'ambulanza, Moreno Mancini, di 60 anni, tenuto in coma farmacologico al Torrette di Ancona, dove è raggiunto giovedì scorso in eliambulanza. Da chiarire ancora le cause dell'incidente e perché Mancini, alla guida del mezzo, abbia improvvisamente invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva il mezzo pesante. Forse potrebbe essere stato un malore a fargli perdere il controllo. L'autista del tir lo avrebbe visto accasciarsi improvvisamente sul volante. Grazie. 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 Grazie a tutti